SONO STATO SEMPRE UN TIPO CREATIVO SONO STATO SEMPRE UN TIPO CREATIVO VELOCE DI PENSIR SFACCIATAMENTE SICURO DI ME STESSO TUTTE CARATTERISTICHE DEL GRANDE CRIMINALE Non è che bisogna mangiare qualcosa prima di prendere... No, no, non necessariamente, signor Salvetti, non si preoccupi È un punto del tutto naturale Perché io stasera proprio voglio di fare qualcosa di lipidinoso con quella la Stasera mi diverto Sti cazzi, salve Sti cazzi cosa? Sti cazzi che bella donna Sapete qual è la differenza tra un grande attore e un attore vero? SONO STATO Ho dato un'occhiata alla sua scheda e la situazione è piuttosto complicata. Ha già fatto il bonifico di 12.000 euro. Sei sicuro? Sei proprio convinto che bastano i soldi per avere potenti? Ma noi non ci sbagli a vedere, magari. Noi abbiamo un attore di livello, degli attori di livello. I soldi per la produzione e la pubblicità. Poi c'è il film, cazzo. C'è una trama così che non può passare in questo palco. Vuoi fare l'eroe? Vedi che gli eroi stanno nei film. Nella vita sono tutti degli sfigati, dei falliti. Poi in ogni caso fanno tutta una brutta vita. Ma mamma's was in Venezuela, mama like Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I said, hola, hola. Hola, bossa nova. I said, yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah. Grazie a tutti